Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde questo ragazzi è un video importante riguardo il glitch dello yacht che si paga solamente a 25.000 dollari allora, molti youtuber hanno caricato anche nei forum, perché anche nei forum in cui sono io hanno caricato dei youtuber italiani, americani, spagnoli, tutti, quasi gli youtuber per guadagnare praticamente il glitch per avere lo yacht a solamente 25.000 dollari e non si tratta di un glitch ragazzi, assolutamente non è un glitch e non è neanche un bug, cioè non è niente ragazzi il metodo è semplicissimo, si tratta di una truffa, di un glitch falso per guadagnare quindi tutti gli youtuber che caricano questo video è per guadagnare soldi, quindi facendo le visual in video perché ragazzi? Perché semplicemente tutte le persone che fanno questo bug, che non è un bug ragazzi non è neanche un bug, è praticamente giusto che sarebbe la modifica dello yacht perché quando comprerete lo yacht praticamente vi farà modificare l'interno dello yacht e quindi potete scegliere cosa modificare e se cambiate la bandiera costa 25.000 dollari o comunque sia le modifiche alcune ragazzi, quindi semplicemente ragazzi una volta che voi avete comprato lo yacht senza fare quei passaggi che andate sull'orologio o quel che sia ragazzi dove ci sono le macchine e comprarsi la LG RH8 che è gratis ragazzi voi basta che andate su modifica dove ci sono il sito delle barche e semplicemente vedrete che costa 25.000 dollari e non si tratta di un bug ragazzi ripeto è solamente una cagata quelli che gli youtuber caricano questo bug che tra parentesi dicono che è un bug perché è una stronzata e questi sono gli youtuber che appunto vogliono fare visual, vogliono guadagnare in quel video quindi ragazzi non credete a tutto ciò, non andate neanche a vedere il video perché altrimenti ve lo avrei caricato anch'io ragazzi come sapete io carico tutti i possibili glitch soprattutto quei glitch mostri come dico io quindi ragazzi state tranquilli, non è un glitch e quindi non provateci neanche perché è solamente una perdita di tempo e ragazzi volevo solamente avvisarvi di questa cosa qua dato che molti di voi comunque sia me lo chiedono di caricarlo perché non l'hanno capito e quindi ragazzi con questo video appunto volevo farvi capire che non si tratta di un glitch ma di un video di merda detto praticamente così quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo video l'avete trovato utile vi sia stato d'aiuto per la gente che veramente credeva in questo glitch lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se volete potete entrare nella mia crew di Orko Verde che è aperta a tutti troverete il link in descrizione per giocare insieme inoltre se volete aggiungermi il mio ID online PS4 e Orko Verde sempre iscrivetevi in descrizione e da Orko Verde è tutto noi ci vediamo al prossimo video bella